Quando sei piccolo l'energia si comprime, perciò hai la forza di un uomo di 90 kg in un pugno di pochi millimetri, sei come un proiettile. Se colpisci troppo forte uccidi, troppo piano è una carezza amorosa. Devi sapere come si dà un pugno. Sono stato in prigione tre anni, so dare un pugno. Fa vedere. Asceno. Vuoi insegnarmelo tu? Dai, avanti! Così si dà un pugno.